Siamo qui con Matteo Semera e Luca Sacchetti. Ragazzi, come è andata oggi? Allora, la partita è andata discretamente bene, nonostante il pareggio. Era una squadra che milita nelle zone alte della classifica. Il pareggio all'ultimo secondo, ovviamente, è una grande soddisfazione. Qui c'è l'autore di meglio che ha fatto. Potremmo fare sempre di meglio, però va bene così. Niente, è stata una partita complicata perché la squadra è molto fisica, tecnica, brava nel gioco palla a terra, nelle palle alte. Però il pareggio, secondo me, è più che meritato. Va bene. Come ci ha chiesto qui il ragazzo dell'intervista con il nuovo mister, ci troviamo molto bene. Da poche settimane che è qui, ma già si vedono buoni risultati. Grazie mille. Grazie a te.